E' venuto a trovarci nei nostri studi il consigliere comunale di Agropoli Gisella Botticchio per raccontare ai telespettatori di Cilento Channel quello che è accaduto presso l'istituto Alfonso Gatto di Agropoli, sezione classica. Lei si è recata presso la scuola per chiedere informazioni in merito alle condizioni di salute del ragazzo che sappiamo è stato colpito da meningite. Poi che cosa è successo? Noi consiglieri di minoranza ci siamo sentiti con Consolato Caccamo con Abbate e io e Consolato avevamo disponibilità e abbiamo deciso di recarci presso l'istituto Gatto proprio per documentarci, per avere un chiarimento. Come consigliere comunale è il minimo, era doveroso da parte nostra andare a fare visita ma giusto per chiedere. Però l'accoglienza è stata proprio, guardi, è indescrivibile ma non solo io, fortunatamente ero accompagnata dal collega, fortunatamente perché potevano pure dire no ma lei ingigandisce. Lì davanti ho provato ad aprire la porta ma un signore, penso che sia stato il vicepreside, non lo so, subito come ha visto la mia sagoma, che mi ha riconosciuto, verso la porta. Fuori, devi andare fuori, qua non si entra, devi andare. E ha chiuso, mi ha chiuso la porta in faccia. Consolato, il mio collega, per un momento diciamo ha preso il colpo però poi ha riaperto, ha cercato di riaprire la porta che era, insomma, non c'era, non era chiusa. Se non che è venuto contro, ma con me, non tanto col mio collega, che non dovevamo entrare. Io sono entrato come consigliere comunale, io posso visitare le scuole, non posso disturbare le lezioni, questo sì. Però non erano le aule, ero nell'atrio per documentarci. Comunque è un caso eclatante, un caso di meningite agropoli. Perché? Cioè l'amministrazione è doveroso da parte mia, però trattata peggio, ma peggio delle bestie. Non lo so, forse hanno problemi queste persone. Perché poi, stesso caso, mi è capitato giorni fa, l'8 marzo, giorno della festa delle donne, vado in ospedale, invitata da Piera D'Avella, una mia cara amica, operatrice sanitaria, al presidio Asle. C'era l'inaugurazione di questo mammografo di ultima generazione, ci scambiavamo gli auguri, festa della donna, a un certo punto è arrivata la dottoressa Serra insieme a noi, viene un operatore sanitario, faccio nome per rispetto, e mi dice se per piacere ti allontani, te ne devi andare di qua. E io ho detto ma perché? La Serra ha ascoltato, ha detto se la signora Botticchio si allontana di qua, poi chiamiamo i carabinieri. Io ringrazio la dottoressa Serra per l'umanità, per il genere, ma perché, scusate, un consigliere quando ha idee diverse dalla maggioranza, perché deve essere trattato così? Cioè dovunque si va viene cacciato fuori. Secondo lei perché avviene tutto questo? Avviene perché, giustamente, io dico ciò che penso, mi rapporto ai cittadini, la mia linea politica è solo ed esclusivamente per i cittadini. Con Consolato, ci siamo sentiti, con Consolato andiamo nelle scuole, è normale, non abbiamo padroni, non prendiamo ordini da nessuno, è una politica libera. Certo, Agropoli da anni non lo era, è una novità, però è una novità e i fini proprio del bene della popolazione. Scusate, ma io a chi faccio? Cioè domandare a andare in una scuola e chiedere di un ragazzo, anche se c'è stata fatta una disinfestazione, una sanitizzazione come si deve, anche se, cioè, ma scusate, è un dovere di chi governa, di chi amministra, andare in ospedale e essere invitata da Piera per festeggiare la festa, ma è anche per noi donne, ma scusate, ma noi non abbiamo diritti, non capisco. Quindi lei manifesta praticamente questa situazione non tanto piacevole nei suoi confronti da parte, insomma, di alcune persone. E che cosa si sente di dire, quindi, anche a coloro che, ovviamente, hanno manifestato questo trattamento nei suoi confronti? Subire attacchi gratuiti non è bello. 2019, cioè l'8 marzo, giorno della festa della donna, si avvicina un operatore sanitario maschio, dice, allontanati, guardate che brutto, è una cosa che ti lascia... Io non mollo, non rinuncio, vado avanti, altri colleghi miei della lista Coppola hanno, giustamente, si sono dimessi, sono scappati. Io non vado via, rispetto la città, rispetto il territorio, perché il territorio ha bisogno di crescere, ha bisogno di un'azione politica libera. Ringrazio la dottoressa Serra, che quel giorno ha preso le mie difese e lei sta in maggioranza, però la ringrazio. Però non è bello quando la vedo, sfugge, dico, dottore, ci piamo un caffè? No, 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 scappa. Cioè, ma perché questa omertà? Perché andare in una scuola e parlare con un operatore della scuola? Era un mio diritto, è un mio diritto tutelare i ragazzi, tutelare la scuola. Scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Io sono un consigliere comunale, prima di essere un consigliere comunale, sono una donna, sono un cittadino e voglio rispetto. Perché l'8 marzo sono stata umiliata e non si fa. Ci sono le coscienze a parlare, la vostra coscienza, perché sapete bene chi si muove e da che cosa proviene questo modo di comportarsi di tante persone. Lasciamo libere le persone, sia in ospedale, sia nelle scuole, lasciatele libere, perché il rispetto sta al primo posto nella politica seria fatta per bene.